Ciao a tutti, siamo Luca e Teresa. Siamo i referenti della missione Compassion in Italia. Facciamo questo esercizio per vivi e diventati. Siamo un po' orgogliosi oggi di potervi far vedere questi risultati. Siamo in Uganda, quindi vogliamo mostrarvi tutto questo e vogliamo invitare a poter sostenere questi bambini attraverso la missione Compassion. Vi incoraggio a sostenere un bambino e che Dio vi benedica.